La prevenzione è la cosa più importante, prevenzione e informazione, per cui vi invitiamo sabato tutti quanti in fronte al Palazzo Moroni e a Pedrocchi per conoscere e sapere il problema, per cui vi invito tutti e tutti a partecipare e a diffondere questo messaggio, vi aspettiamo tanti e numerosi. Noi parliamo di prevenzione, quindi di stili di vita, di buoni comportamenti affinché non insorga il male e ci occupiamo anche di diagnosi precoce nell'eventualità che purtroppo questo male insorga, per cui è estremamente importante la diagnosi precoce affinché il male venga scoperto agli inizi quando è molto molto piccolo e quindi diventa risolvibile, operabile senza troppe conseguenze. In questo momento poi bisogna anche considerare che a causa del Covid molte prevenzioni sono saltate e quindi oggi si scoprono dei tumori insorti che non sono più piccoli, piccoli, con delle conseguenze peggiori. Speriamo che nei prossimi anni le cose possano ancora migliorare. Vi aspettiamo tutti sabato 8 ottobre, alla mattina saremo con la settima tappa del tour della prevenzione davanti al Palazzo Moroni con l'Info Point, l'ambulatorio mobile. Nel pomeriggio vi aspettiamo dalle 15.30 davanti alle Pedrocchi, con le ragazze di Daigo Music e Cristiane Lirussi, con la nostra Barbz che ci racconterà un po' di cose, parleremo di prevenzione, parleremo di sport e di tante cose. Insomma vi aspettiamo dalle 15.30. Vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo. È una giornata molto importante, totalmente dedicata alla prevenzione delle donne, per la prevenzione al seno.